Ciao a tutti ragazzi, oggi ci troviamo a Luino, una località in provincia di Varese sulle spondi del Lago Maggiore. Grazie alla sua posizione Luino è snodo di collegamento con le spondi piemontesi del Lago e con la Confederazione Elbetica, oltre che essere punto d'accesso per numerosi valli montane. Il posto è conosciuto anche per la tradizione del mercato, che si svolge ogni mercoledì ormai da secoli ed è riconosciuto a livello internazionale. Sappiamo che ebbe inizio nel 1541, quando i conti rusca di Luino chiesero all'imperatore Carlo V di concedere al loro borgo tale privilegio. Luino vanta numerosi edifici eleganti, tra cui Palazzo Verbania. Costruito inizialmente come Cursal, è oggi sede dell'Infopoint, degli archivi letterari di Pietro Chiara e Vittorio Sereni. Esso viene utilizzato anche per eventi culturali e privati. Grazie. 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 Grazie.